A Nangrigento l'assessore comunale alle politiche sociali Marco Vullo è stato impegnato oggi in conferenza sull'erogazione dei buoni spesa regionali alle famiglie meno abbienti. Stamattina dopo aver presentato le istanze i cittadini agrigentini che ne avranno diritto riceveranno un sms sul proprio cellulare con l'accredito delle somme spettanti. Quindi sarà un Natale un po' meno valutoso per queste famiglie che riceveranno oggi l'opportunità di andare poi ad acquistare nelle attività commerciali convenzionate i beni di prima necessità. Il contributo di oggi che verrà erogato attraverso procedura telematica direttamente sui cellulari delle persone aventi diritto sono ben 426 famiglie su un numero complessivo di domande presentate di più di 600 alcune quali sono state scartate perché non avevano il diritto. L'erogazione avverrà secondo delle fasce rispetto ai nuclei familiari quindi le somme vanno dai 300 ai 700 euro. A questo noi abbiamo così come previsto nell'avviso regionale adottato un sistema di controllo a campione del 20% delle istanze presentate che provvederemo immediatamente ad inviare agli organi di controllo e quindi alla Guardia di Finanza per le opportune verifiche perché a questo ci... Grazie.